Paolo Franco, questa è la sua prima intervista da coordinatore provinciale di Forza Italia. Che linea darà al Movimento? Onestamente è una linea che parte già dall'esperienza nel solco di quello che era il responsabile degli enti locali e che quindi ha avuto la possibilità di avere il contatto con gli amministratori, i candidati e soprattutto la gente che li vota. Oggi la nostra gente vuole soprattutto delle risposte a delle necessità, ma vuole anche la franchezza di sapere quando non siamo in grado di dargliele noi come poter fare ad avere tutto ciò che può essere utile alla gestione di tutte le varie attività sociali, quindi dall'imprenditore al lavoratore all'operatore sociale. Evidentemente le alleanze ce le dice il nostro elettorato che sono col mondo di centrodestra, quindi con la Lega e con i fratelli d'Italia. Allo stesso modo ci vuole una dignità dentro l'alleanza che rispetti non solo il consenso ma anche il valore delle persone che in queste amministrazioni si danno. È evidente che però di fondo per tutti noi abbiamo una realtà come quella della Val Seriana che conta un radicamento territoriale importante sia negli operatori politici perché abbiamo oltre 20 coordinamenti comunali e siamo presenti in oltre 18 amministrazioni e diamo il nostro contributo per l'azione politica. Questa è un po' la linea e il modello seriano che verrà comunque traslato e trasferito su tutta la provincia ma già in altre realtà grazie anche all'esperienza dell'attuale assessore regionale Alessandro Sorte per quanto riguarda il territorio della bassa bergamasca abbiamo già adottato questo modello e con successo. E per quanto riguarda le prossime elezioni amministrative? Per quanto riguarda le prossime elezioni amministrative ci vede impegnati su tutti i paesi che vanno al voto e stiamo anche definendo non solo la tipologia delle alleanze ma soprattutto il programma perché si tratta in continuità perché si tratta invece anche molte volte di fare delle prime esperienze quindi l'attenzione sicuramente è su paesi come Gromo, Gorno, Oltresenda Alta, Ardesio, Castiglione della Presolana ma sicuramente il ragionamento anche di collegare le nostre realtà all'interno di una logica di partito quindi Costa Volpino e passando poi per Alzano Lombardo e tutti gli altri paesi che vanno al voto sicuramente ci vede non solo attenti a come fare a intercettare l'elettorato e le loro esigenze ma soprattutto garantire una squadra di governo che molte volte come abbiamo visto adesso ad esempio ad Alzano con la sinistra non è riuscita neanche a tenere in piedi il mandato elettorale questo sicuramente è un problema che va oltre la questione politica che poi si va a rifarsi su tutti i cittadini grazie